Bugiardo! Perché scusa? Dove sei andato ieri sera? A cena con Marco, il mio collega! Ah ah! Vedi che stai mentendo perché quando dici le bugie ti mangi le unghie! Non è vero! Tu ieri sera sei andato a cena con la tua segretaria? No! L'hai portata a mangiare il pesce? No! Poi dopo siete andati in centro a fare una passeggiata? Ma non è assolutamente vero! E poi vi siete anche mangiati un gelato! Ma guarda che non è vero! È cascato il pennarello! Grazie a tutti!